Sì, 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 non ci credo, sì, sei, sei sono, sono sei su sei, sono sei su sei, una vittoria, due vittorie, tre vittorie, quattro vittorie, cinque vittorie, sei vittorie, sei vittorie consecutive, diciotto punti in campionato, primi, sedici gol fatti, due gol subiti, non ho più parole per descrivere la spettacolarità che stiamo mettendo in campo, anche oggi contro il Cagliari in casa, e anche oggi vi vengo a dire che non era una partita scontata, perché il Cagliari è una squadra fisica, è una squadra che comunque non ti concede molto, infatti il Napoli non ha avuto tantissime occasioni oggi, ma ragazzi, quando c'hai un uomo, un ragazzo anzi, che ti rende in questa maniera, che si chiama Victor Osiman, lodato sia, perché veramente ragazzi, cioè che cazzo di partita ha fatto oggi? Ma che cosa ha fatto? Abbiamo fatto due gol, uno è un gol suo, con una palla su cui Zadischi ci ha creduto, e l'ha messa in mezzo, perché poi succede questo, quando sei in fiducia, in questa maniera, credi, ci vai, su tutti i palloni, perché sei in fiducia, sai che c'hai mezzi per far male, ed è anche un'altra caratteristica che il Napoli ci sta facendo vedere, la fiducia nei propri mezzi, che poi, se vogliamo, è quello che ha ripetuto Spalletti per tutto il ritiro, che il Napoli era già forte, mancava solo la consapevolezza di questo, la fiducia nei te stessi, e oggi Zadischi che arriva a prendere una palla che stava praticamente finendo fuori, te la butta in mezzo di prima, con una precisione assurda, e Osiman, che era già lì pronto, doveva solamente battere il portiere, è l'emblema, cioè l'emblema ragazzi, e poi, lo è ancora di più, un Osiman, che resiste a tre calci di Godin, al terzo cade a terra, perché logicamente là era un rigore grande quanto una casa, si prende il rigore, va in signe sul dischetto, non sbaglia ovviamente, e facciamo 2-0, due gol, che li ha fatti Osiman praticamente, due gol che li ha fatti Osiman, e io non so che dire, grandissimo giocatore, grandissimo giovane, e pensiamo che può crescere ancora, può crescere ancora questo ragazzo, quindi veramente tantissima roba, 6 gol in 6 partite, perché ne ha saltata una per squalifica, tanta roba, tanta roba, la stagione di Simenti in ora, poi il Cagliari ha creato poco o nulla, questo sì, il Cagliari ha evidenti problemi in attacco, e va detto, però un altro ragazzi, un altro che fa paura è Anguissa, che praticamente ragazzi si dribbla pure l'aria, un altro poco, perché veramente ha una tecnica spaventosa, una tecnica che partita dopo partita stiamo vedendo sempre di più quanto sia forte, ha delle finte di corpo che devi solo inchinarti a quelle finte di corpo e basta, per il resto poi becchia anche la giornata fortunata di Mario Rui, con un Mario Rui che ha vinto a tutti i contrasti possibili e immaginabili, e ne esce fuori una partita così, il Napoli che in 6 partite ha preso 2 gol, 2 gol, a questo punto il campionato scorso ne avevamo presi qualcosa come 9, il Napoli l'anno scorso aveva il problema di prendere tantissimi gol, quest'anno arriva alla sesta di campionato con 2 gol subiti, 16 all'attivo, primi, devo anche commentare quello che sta facendo Luciano Spalletti, io non credo, non credo, tra l'altro fa dei cambi veramente mostruosi, perché Unas è diventato un giocatore mostruoso, e niente da aggiungere, è tornato pure Demme ragazzi, quindi adesso la rosa è anche profonda, è tornato anche Mertens, quindi la rosa è ancora più profonda, niente, ci vediamo alla prossima, forza Napoli, e continuiamo così, continuiamo così, A presto!